buongiorno buongiorno buon giovedì ben trovati come state tutto bene noi benissimo e allora tra poco leggeremo insieme il giornale che due giorni fa non siamo riusciti a farlo e per ovvie ragioni e quindi nell'occasione di questa grande festa che qui non c'è stata altrove probabilmente sì andremo a vedere con voi se è stata fatta menzione del perché nemmeno il picchetto d'onore e quindi l'alloro poggiato la corona su quella che era il simbolo del dei caduti della polizia quindi vediamo che spiegazione verrà rilasciata sui giornali in questo primo momento mi piaceva condividere con voi il divertente periodo di qualche ora perché non ce l'ho fatta di più che sono riuscita ad accettare per la mia non intelligenza io che sono una signora nessuno e che non ho niente da fare a stare all'interno di quella chat una chat nella quale si lodano e si imbrodano come solo loro sanno fare nella quale ho confermato quanto le persone sono messe male tantissimo e è interessante aver confermato che è bello è bello come le persone se la raccontano se la cuciono se la scuciono e se la costruiscono e si molto molto interessante capisco per quale motivo l'investimento economico odierno e futuro in psicoterapeuti psicologi e psichiatri per poter poi gestire tutta questa orde di persone e sì sì e ci credo che fate fatica a capire quello che dico ci credo però è stato bello studiare queste dinamiche credo che sia anche giusto che ci siano recinti autogestiti e autogestiti e autoprodotti d'altronde non sono l'unica che crede nella autocertificazione di se stessi anche coloro i quali si adoperano a ergersi promotori degli istigazioni all'odio fanno un po' la stessa cosa si autocertificano capaci di poter dire delle stronzate e quindi onori a voi dalla signora nessuno devo dire è molto preoccupante la situazione e che dire che più tardi grazie ad una privacy fasulla grazie alla possibilità di utilizzare app per poter vedere anche la maglia intima degli altri noi potremo fare la nostra denuncia la nostra segnalazione anziché in produzione verso le forze dell'ordine che al momento devono rispondere a tutte quelle già in essere chiarisco anche questo punto siamo noi che abbiamo prodotto denunce perché qualcuno ancora non gli è chiaro che siamo stati denunciati se fossimo stati denunciati finalmente potremmo entrare in un'aula di tribunale il problema è questo che non veniamo denunciati ma vengono prodotti soltanto contestazioni verbali di contestazione amministrativi noi invece vorremmo essere denunciati per reati commessi siccome questo non avviene il motivo per il quale siamo qui all'aria aperta chiaro a qualcuno soprattutto quelli di quel gruppo lì torno sul discorso che in virtù della possibilità di farle pulci ad ognuno abbiamo scaricato anche noi un'app che ci ha permesso di non solo controllare le targhe dei cittadini amministrati ma di poter visionare anche se sono in regola e questa è un'app che può scaricare chiunque è gratuita e tutti possiamo potete sapere tutto di tutti e quindi anche voi potete segnalare ed essere dei bravi cittadini ecco e noi attraverso il social faremo questa denuncia ovviamente noi siamo coerenti non diremo il nome il cognome che vediamo su quest'app ma faremo riferimento soltanto a targa mezzo e sue caratteristiche e denunceremo le violazioni delle regole della normativa successiva quindi eh chi è entrato contro mano su questa strada chi secondo il codice della strada non ha la targa ehm nell'applicazione esatta di visibilità e di correttezza della stessa e e altre violazioni bene quindi diciamo che oggi faremo servizio per il territorio concludo questo nostro primo incontro invitando tutti coloro che hanno da ridire e da fare i maestri in cattedra ad essere presenti qui sul luogo perché benvenga il confronto ma dal vivo non sui social noi non sprechiamo energie su tastiere o attraverso dibattiti eh in video noi preferiamo i dibattiti dal vivo sono più reali per voi e poi è giusto che secondo l'articolo ventotto della costituzione ognuno ci metta la faccia e noi ce l'abbiamo sempre messa mettetecela anche voi no? Bene ci vediamo tra poco a dopo bene ci vediamo tra poco a dopo